Il libro di questa settimana è un libro dedicato a delle riflessioni e dei spunti sull'Unione Europea. È scritto da Ennio Trigiani, professore all'Università di Bari, e pubblicato da Cacucci, editore. Il titolo è Spunti e riflessioni sull'Europa, appunto. Allora, Ennio Trigiani, il tuo libro è un'analisi di tutti i campi in cui l'Unione Europea ha delle competenze, dove agisce, eccetera. Ma parte da una definizione, da una descrizione, diciamo, dei grandi valori che sono contenuti in questo trattato, su base del quale si fanno altre e tutte le politiche. Uno dei primi principi è quello della solidarietà. Allora, come si esprime la solidarietà in questo trattato e come si esprime in campi, e ne parleremo in vari campi, diciamo, di azione, tra il terrorismo, l'ambiente, eccetera? Sì, la solidarietà è una novità importante perché, pur essendo in fondo alla base dell'intero processo di integrazione europea, ora è stato trasformato in un principio giuridico. Questo dovrebbe dare maggiore forza ai campi in cui si esplica la solidarietà, che si evidenzia dal punto di vista economico, sociale, della reazione contro le forme di terrorismo, rispetto ai problemi dell'immigrazione, dal punto di vista ambientale. Sono tutti fenomeni rispetto ai quali il principio di solidarietà diventa il minimo comune denominatore per caratterizzare in termini nuovi quelle che sono le attività dell'Unione Europea. E appunto, vediamo qualche esempio concreti. Per esempio, al seguito dei tragici eventi a Parigi il 13 novembre, la Francia, il presidente Hollande, ha chiesto di utilizzare uno degli articoli del trattato, che è il 42,7, che prevede la solidarietà di tutti i paesi europei quando uno di loro subisce un attacco militare. E' questa la vera solidarietà europea? Ma qui c'è semplicemente un obbligo bilaterale diventa con ciascuno degli stati membri di assistenza rispetto allo stato che viene aggredito. Ma la solidarietà dovrebbe essere in questi casi espressa in forme più organiche. A mio avviso c'è appunto altre norme, ma anche nello stesso articolo 42 c'è la possibilità di forme di cooperazione rafforzata, perché di fronte al pericolo del terrorismo internazionale ci vuole ben altro, a mio avviso. Ci vuole proprio un'integrazione dei servizi segreti e un'integrazione anche degli eserciti, quindi la creazione e recupero del vecchio progetto di comunità europea della difesa, realizzazione di esercito comune, che significa rafforzare i servizi segreti comuni. Eppure esistono molti strumenti come Eurojust, Europol, c'è esiste anche un nucleo armato che è Eurocorps, perché i governi non vanno più in questa direzione? Perché continuano a volere gestire servizi segreti, forse armate, industria dell'armamento a livello nazionale piuttosto che di condividere e di essere più efficienti? Perché ci sono interessi economici, noi abbiamo eserciti che hanno strumenti militari di diversissimo, abbiamo una serie infinita di carri armati tutti diversi l'uno dall'altro, perché ogni Stato risponde alle sue esigenze economiche, perché c'è un problema politico di fondo. Riunire queste forze significa fare una scelta politica di integrazione, che ancora gli Stati non vogliono assolutamente fare. E c'è un altro campo dove la solidarietà si esercita in una maniera un po' più visibile, quella dell'ambiente. C'è la conferenza a Parigi, appunto per limitare il riscaldamento climatico. In questo campo esiste veramente una solidarietà europea e un'azione europea solidale? Sogno a dire che su questo l'Unione Europea è all'avanguardia, rispetto almeno al resto della comunità internazionale. Le norme a tutela dell'ambiente, a tutela della biodiversità, dal punto di vista degli investimenti sulle risorse energetiche, a tutela dell'ambiente, quelle pulite, la realizzazione di alcuni principi, precauzione, inquina paghe e così via, l'esistenza di strumenti come la valutazione di impatto ambientale. Sono strumenti concreti in cui l'Unione Europea è all'avanguardia. Certo, l'ambiente comunque va risolto a livello mondiale, perché anche ci sono problemi dei costi delle norme poste a tutela dell'ambiente che rendono anche poi meno competitiva l'industria europea. Sì, ma per risolvere a livello mondiale devi avere una potenza di gestione e di negoziazione e un paese da solo non l'ha. Invece l'Unione Europea può averla. Può averla, potrebbe averla, ma questo è un problema più generale. Non si rende conto fino in fondo che di fronte agli scenari futuri o l'Unione Europea è un unico soggetto politico complessivamente oppure tutti gli stati a partire da Germania saranno dei nani nella competizione politica e economica mondiale. E davanti alle sfide internazionali non si è via di uscita senza un'Unione Europea. Assolutamente, per cui è bene che almeno fra gli stati disponibili si proseguano rapidamente verso l'integrazione politica. Grazie a Ennio Trigiani, ricordo il titolo del suo libro Spunti e riflessioni sull'Europa, HQC, editore nel 2015. Grazie Ennio. Grazie.